Beh, sicuramente sapevo di poter far bene, appunto ho vinto tutte le gare fino ad oggi tra le junior e mancava soltanto questo per coronare tutta la stagione. Ieri aveva vinto mia sorella, quest'anno è il primo anno che riusciamo a vincere tutte e due il tricolore, sono veramente contenta di essere io che lei e i miei genitori.